Buon aspedito, grazie. Ragazzi, la pizza non è un cibo, è proprio la felicità. Esatto, è quello che penso io. Quando vedo la pizza, che arriva la pizza a tavola, subito mi divento simpatico, divento allegro. Anche perché uno poi nel gerbo comune è sinonimo di amicizia, perché smettiamoci una pizza. Si mangia calda, però, eh, sì, aspetta. Riki, che fai? Cosa fai? Cosa ho fatto, Riki? Gli sei mangiato la pizza con la forchetta e coltello? Forchetta e coltello, mi pensavo che sia cos'era, capito? Capirai. Capirai, ci da me capirai. Riki, sei un traditore della patria. La pizza si mangia con le mani, con le mani, c'è tutto un altro sapore. Ho capito, tutto un altro sapore, però brucia. Eh, brucia, brucia. Secondo te, noi del sud non soffriamo, non ci bruciamo quando mangiamo la pizza. Non c'entra che brucia, Riki, devi soffrire, ma per un bene più grande. La pizza non è un oggetto, lo devi stringere, abbracciare, lo devi sentire vicino a te, con un fatti sentimento. Io non riesco a immaginare niente di peggio, niente di peggio che mangiare la pizza con forchetta e coltello. Finito. E così ho fatto. Ma perché? Perché? Beh dai, tutta questa sperazione, non mi sembra che sia successo una tragedia. Perché? Mangia, 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 vuoi mani, vuoi mani, mangia tutti, mangia tutti i forzioni. Grazie. Grazie a tutti.